Emis tu mi sembri sempre arrabbiato quando comunichi nei social quando rispondi alle domande quando e la cosa che non capisco è mi chiedo con chi ce l'hai cos'è che ti fa arrabbiare ma in realtà io penso che questa impressione allora in parte può essere verifiera che effettivamente a volte mi girano le palle per certe cose tipo le polemiche che si alzano a volte allora lì mi girano le balle però ti dico in realtà nella maggior parte dei casi un po il mio modo quel modo di comunicare che ho creato e ti dico al di là poi del marketing così è un po anche il modo in cui sono nella vita più volte mi viene detto perché mi parli con questi toni e mi dico ma che toni che come ho detto più volte sono cresciuto in una casa dove comunque fondamentalmente tutti si gridavano addosso ok no questo non il senso da film drammatico nel senso che mia mamma la famiglia di mia mamma erano tutti insomma conta palermitani no quindi già toni di voci alti sempre diretti in casa una molta molta cacciara e quindi per me cioè abitudine capito no a volte magari ricevere e avere dei toni che a primo impatto possano sembrare scocciati o indisponenti puntigliosi accesi io ti giuro che spesso non mi rendo conto di questa cosa forse dovrei fare un lavoro su me stesso a sto puntigliosi